. Uomini e donne, Angela Caloisi rivela la verità sugli scontri con Paolo. Uomini e donne, Angela Caloisi si sfoga sui social, ecco perché ci sono delle discussioni con Paolo Crivellino. . Angela Caloisi, corteggiatrice di uomini e donne, si è ritrovata costretta a rispondere ad un'accusa che le è stata rivolta su Instagram. Sappiamo bene che la giovane, che corteggia Paolo Crivellino, si è spesso ribellata al comportamento di quest'ultimo. Il tronista dimostra di avere un grande interesse nei confronti di Angela, tanto che sembra già annunciato che la scelta ricadrà su di lei. . Sono molti i sostenitori della Caloisi, che sin dall'inizio prova a conquistare il cuore di Paolo. . Ma ci sono anche diversi telespettatori che non apprezzano il suo comportamento. . Spesso il Crivellino e Angela sono protagonisti di discussioni molto accese. . Nel corso delle ultime puntate, la Caloisi ha anche abbandonato gli studi facendosi raggiungere da Paolo. Ma sono proprio i continui scompri che ci sono tra loro a scatenare una critica da parte di un utente. . Quest'ultimo rivela di non essere d'accordo con il modo di fare di Angela. . Secondo quanto si legge nel commento, la Caloisi, poiché napoletana, starebbe provando a conquistare Paolo proprio attraverso i litigi. . . Ed ecco che Angela ha detto la sua al riguardo. . . . Mi dispiace deluderti, ma non è a Napoli che litighiamo, è dove c'è sentimento. . . Dove non c'è ragione che ti spinge a startene ferma e muta. È così che Angela rivela sua opinione sulle accese discussioni tra coppie. Sì, per me l'amore è scontro, litigio e passione. . . Ma quello scontro di cui non sei mai sazio, quel litigio che nasconde interesse e ha paura è quella passione che ti fa depositare le armi alla fine. La corteggiatrice si dichiara sicura di questa idea. Certo che sì, è proprio questo l'amore che mi fa sentire viva, quello imperfetto che tanto detesti ma di cui non puoi far a meno. . . Uomini e donne, Angela Calloisi sembra aver ormai conquistato Paolo Crivellin. . E ben venga se una persona ti fa tanto girare le scatole, vuol dire che non ti è indifferente. Angela conclude così il suo commento, spiegando cosa significa per lei discutere. . . . . . .